Altri 90 minuti determinanti in arrivo. La Fidelis si gioca il sabato di Pasqua a una buona fetta di salvezza nel campionato di Serie C. Gli auspici sono sempre gli stessi. Scavalcare la Viterbesse in penultima posizione e contenere il margine dal quintultimo posto. Entro gli otto punti per sperare nella conferma della categoria attraverso i play-out. Andrea di scena allo stadio Romeo Menti a partire dagli ore 17.30 sul campo della Juve Stabia. Le sensazioni sono buone. Sono buone di una squadra che è in fiducia, che è conscia delle proprie responsabilità e sicuramente sa dell'importanza di questa partita come tutte per il resto per noi. Quindi veniamo da una buona partita in casa che ci ha dato fiducia, ci ha dato morale. Quindi la affronteremo credo nel migliore di modi. Non può bastare la vittoria contro la Torris. La Fidelis deve fare tanti punti nelle ultime tre partite di questo campionato per salire in corsa sul treno play-out. Di fronte i biancazzurri troveranno una squadra in lotta per i play-off. La Juve Stabia come si batte? Innanzitutto è una squadra importante. Ha fatto un campionato forse sotto le aspettative, per la rosa che ha a disposizione e per la qualità che ha. Si batte mettendosi dalla loro parte o perlomeno si deve cercare di battere mettendosi alla stessa pari loro, su un campo difficile, veloce, sintetico. Quindi è una squadra che se prende l'inerzia della partita sicuramente può creare problemi. Quindi bisogna stare molto attenti e ribattere colpo su colpo. Squadra che vince non si cambia. Cudini però non potrà riproporre lo stesso Undice che ha battuto la Torris. Il tecnico della Fidelis a Castellamare di Stabia dovrà rinunciare agli squalificati Savini tra i pali, Candellori e Paolini. Sicuramente sono due pedine, tre pedine importanti, quelle che perdiamo in un colpo, però devo dire che ho a disposizione giocatori che sono sicuramente abili e validi per poter sostituire. Quindi l'hanno dimostrato, strada facendo. Quindi non c'è un ruolo, forse il terzino sinistro con Candellori che sicuramente non avendo un terzino di ruolo può complicarci un po' la situazione, però devo dire che stiamo provando, abbiamo provato credo le soluzioni per poter reggere al meglio. La buona notizia riguarda Capitana Rigoni. Andrea sta meglio, sì. Pensavo fosse qualcosa di più importante, invece ha fatto una settimana buona, si è allenato spesso con noi, quindi è a disposizione. Fondamentale sarà il sostegno dei tifossi che non è mai mancato, anche in trasferta. Noi sappiamo della passione della gente, di Andrea, soprattutto in questo momento di difficoltà dove la città, la squadra si è compattata. È quello che poi a volte serve per poter fare con l'impresa che sembra difficile o perlomeno lo è. Ma ce ne aspettiamo tanti, anche se poi è giornata di festa, però credo che la passione che loro hanno dimostrato in questi colori vanno al di là delle feste, quindi credo che ci seguiranno in massa.